In Senato per la presentazione della candidatura trasnazionale del volontariato a bene immateriale dell'umanità Unesco. Il volontariato è un bene prezioso, un patrimonio inestimabile da proteggere. Questo ha detto il senatore Antonio De Poli, che è intervenuto alla conferenza stampa, poi specificando che la candidatura è un'iniziativa lodevole che il Senato intende promuovere.